Ben tornati al 56 live, come già precedentemente annunciato ci concentriamo adesso sulla vicenda della morte di Stefano Cucchi perché nella giornata di ieri sono state depositate e rese pubbliche le motivazioni della sentenza di secondo grado, della sentenza d'appello, una sentenza che ha fatto discutere perché oltre a confermare l'assoluzione per gli agenti di polizia penitenziaria ha anche assolto coloro che invece in primo grado erano stati condannati, medici e infermieri. Torniamo a parlarne, lo facciamo e lo ringrazio sin da subito con Giovanni Cucchi. Buonasera, ben tornato nei nostri studi. Prima di iniziare a parlare con lei riassumiamo con il servizio con la scheda di Irene Bartolomeo quali sono le conclusioni del collegio della Corte d'Assise d'Appello che hanno portato alla sentenza di secondo grado. Sentiamo. Servono nuove indagini sulla morte di Stefano Cucchi, questo scrivono i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con la quale nell'ottobre scorso sono stati assolti tutti gli imputati. Per i giudici il geometra romano è stato picchiato e ribadiscono che se da una parte non sono chiare le ragioni della morte, dall'altra va chiarito il ruolo di chi, a cominciare dai carabinieri, ha avuto in custodia Cucchi nella fase successiva alla perquisizione domiciliare. Per il collegio preseduto da Mario Lucio D'Andria le lesioni subite dal Cucchi devono essere necessariamente collegate ad un'azione di percosse e comunque da un'azione volontaria. Alla procura a cui sono stati spediti gli atti ora è affidato il compito di approfondire la posizione di persone diverse dalle tre guardie carcerarie imputate e condannate in primo grado ma poi assolta in appello. E la nuova indagine dovrà necessariamente riguardare innanzitutto i carabinieri che ebbero in custodia Cucchi dopo l'arresto al termine di una perquisizione nella sua abitazione. Perché, scrivono i giudici, non può essere definita una stratta congettura l'ipotesi prospettata in primo grado secondo cui l'azione violenta sarebbe stata commessa dai carabinieri che lo hanno avuto in custodia nella fase successiva alla perquisizione. Ovvero nell'asso di tempo che va dal saluto rivolto ai genitori sulla porta di casa in piena notte all'arrivo nella caserma di Torsapienza dove Cucchi trascorse poche ore fino al trasferimento a Piazzale Clodio. L'ipotesi si fonda su testimonianze secondo cui già prima di arrivare in tribunale Cucchi aveva segni e disturbi che facevano pensare a un fatto traumatico avvenuto nel corso della notte. Chi ha procurato quelle fratture però, secondo il presidente della Corte d'Appello di Roma, Luciano Panzani, non sedeva davanti ai miei giudici. Secondo Panzani, intervistato dal Quotidiano La Repubblica, la testimonianza di Samura Iaia che accusava gli agenti di polizia penitenziaria non è affidabile. Per ora, nonostante gli aspetti poco chiari di una sentenza controversa, almeno emerge con chiarezza che a determinare le fratture di Stefano fu qualcuno tra coloro che lo ebbe in custodia. Mentre, scrivono ancora i giudici, l'attività di medici e infermieri su Stefano Cucchi non è stata di apparente cura del paziente ma di concreta attenzione nei suoi riguardi e rispetto alla causa stessa del decesso aggiungono che non c'è alcuna certezza. La riapertura delle indagini era stata già chiesta dalla famiglia dopo la sentenza d'appello. Il procuratore capo di Roma, Pignatone, aveva promesso che la procura avrebbe provveduto ad un'attenta rilettura delle carte. È opportuna la trasmissione della sentenza al PM perché valuti la possibilità di svolgere nuove indagini per accertare eventuali responsabilità di persone diverse dagli agenti di polizia penitenziaria, scrivono oggi i giudici. Signor Giovanni, le motivazioni così espresse vi fanno trovare risposte a tutte le domande che avete posto all'indomani della sentenza di secondo grado. Servono nuove indagini sulla morte di Stefano Lucchi. Guardi, le motivazioni della sentenza sotto un certo aspetto è positivo perché riconosce l'esistenza delle percosse. Non crede alla morte per inanizione, per fame e per sede e rimanda alla procura agli atti per indagini su ulteriori persone. Ma nello stesso tempo non sa spiegare le cause della morte di Stefano. Quindi non è che a noi ci soddisfa in modo completo. Ci sono degli elementi che fanno sperare in nuove indagini approfondite. Certo per noi sarebbe stato ideale rimettere tutto in discussione. Rimettere tutto in discussione e questo equivale all'annullamento di questo processo, in quanto le contraddittorietà sono talmente tante che io da non esperto di giurisprudenza ritengo che ci siano gli elementi per farlo. Perché teniamo presente che ci sono state quattro perizie completamente diverse l'una dall'altra. I nostri periti sostengono che Stefano è morto per causa delle percosse, i periti difensori per morte naturale, i periti del tribunale per inanizione e Albarello e i consuletti del PM per arresto cardiaco puro e semplice. È chiaro che a questo punto un riesame completo di tutti gli elementi per noi sarebbe più auspicabile, ma obiettivamente non è facile ottenere una cosa. Ecco perché per la Corte d'Assise d'Appello proprio questa incertezza sulla causa della morte di Stefano porta all'assoluzione di medici e infermieri. Non essendoci certezza sulla causa non può esserci certezza su come sono state effettivamente effettuate le cure su Stefano Cocchi. Che opinione ha di questo passaggio? Guardi, per me questo passaggio anche non è completo. Io mi sono letto la sentenza quasi tutta, onestamente è molto ponderosa e quindi l'aspetto medico non l'ho ancora esaminato, però devo dire che ci sono delle situazioni che veramente gridano vendetta. Ad esempio il catetere che era colmo di liquido di Stefano di 1500 cm3, che non è stato controllato durante la notte, non è stato sbloccato e a nostro avviso, avviso dei nostri consulenti, ha dato la goccia che ha fatto traboccare il vaso alla bradicardia, l'abbassamento del ritmo cardiaco, ma chi lo doveva controllare? Lo dovevo controllare io? Cioè è vero che gli infermieri debbono seguire le istruzioni dei medici e non debbono fare diagnosi per loro conto, ma è pur vero che loro dovere lo devono fare e in questo caso mi pare che c'è una carenza incredibile. Un punto fermo, questa sentenza ancora più amplificato questo aspetto nelle motivazioni lo mette, escono di scena completamente gli agenti della Polizia Penitenziaria, cioè il passaggio anche delle motivazioni in cui questo viene spiegato è particolarmente netto e poi nell'intervista che veniva citata fatta oggi su Repubblica, che veniva citata anche nel servizio della collega Bartolomeo, insomma si ritiene che la testimonianza che poteva invece essere un elemento non è stata ritenuta attendibile. Ma guardi, innanzitutto io personalmente ritengo che la testimonianza di Samurai Aya sia diciamo di un'attendibilità incredibile, perché sì è vero, loro dicono che poi, cioè loro non lo dicono, dagli atti emerge che lui in effetti ha patteggiato poi la sua pena per droga successivamente a questi fatti, ma non è che si può ricondurre, non è che si può fare due più due fa quattro in questo caso, perché sono tutti casi particolari, la verità è una, che Samurai Aya all'inizio aveva paura di parlare, perché era circondato dalle guardie carcerarie, la seconda volta andando nelle celle da solo con il dottor Barba ha descritto abbastanza bene, quale interesse aveva lui a descrivere così dettagliatamente, andare così nei particolari? A me sembra che la testimonianza di Samurai Aya sia molto determinate, ma non solo, ma ci sono anche le altre testimonianze dei detenuti che sono stati nelle celle anche loro, che pur vero hanno delle diversità fra di loro per carità, però secondo me dicono tutte la stessa cosa, che Stefano, che c'è stato un ragazzo che è stato picchiato in quelle aule. Su questo punto però, insomma, dal punto di vista giudiziario sia nel primo che nel secondo grado non ci sono dubbi. Prima di entrare nella parte che fa intravedere uno spiraglio di verità a questa vicenda nella lettura della sentenza, che è cosa però è accaduto comunque nel periodo in cui Stefano è stato in custodia, le faccio sentire l'intervista di suo figlio, l'intervista di Laria, l'abbiamo realizzata oggi, sentiamo anche la sua reazione alle motivazioni della sentenza di ieri e poi torniamo a parlare invece dell'altro aspetto che è quello anche più interessante guardando al futuro, l'intervista a Laria Cucchi. Laria, 67 pagine che racchiudono le motivazioni della sentenza di secondo grado, che ha assolto di fatto tutti gli imputati nel processo per la morte di Stefano. In quelle pagine i giudici di fatto sostengono che il pestaggio Stefano lo ha subito in un modo o in un altro. Voi lo avete sempre sostenuto con forza questo? Ci sono voluti cinque anni, cinque anni e tutta la nostra fatica emotiva per arrivare a questo punto, al punto in cui finalmente un giudice riconosce quel pestaggio che per cinque anni con ogni mezzo, anche nelle maniere più bizzarre, si era voluto negare. Un giudice che esclude nella maniera più assoluta che Stefano sia morto di fame e di sete, cosa che noi abbiamo sempre sostenuto, cosa che invece dall'altra parte si voleva continuare a far credere a tutti i costi e a dispetto di ogni evidenza e logica. Ora sicuramente, come dire, è per noi un momento importante e io non posso dimenticare di quando si parlava di Stefano caduto dalle scale, di quando si esibiva un certificato di morte naturale e l'immagine del corpo di mio fratello non aveva davvero niente di naturale, sicuramente un enorme passo avanti. Sicuramente devo apprezzare il fatto che il giudice non si è voltato dall'altra parte. Ora però mi chiedo da sorella, ma anche da semplice cittadina, cosa succederà da questo momento in poi? se in questa sentenza si dice anche che in tutto questo tempo e con tanti consulenti e tanti periti non sono stati capaci di individuare le cause di morte e se proprio per questo motivo vengono assolti i medici. Si dicono diverse cose all'interno di queste motivazioni, c'è bisogno di nuove indagini e che quindi gli atti devono essere rinviati alla procura. Tu ieri hai rilasciato dichiarazioni molto dure, grandi perplessità rispetto a questo, perché? Beh perché io so, come lo sa chi ci ha seguito in tutto questo tempo, qual è stato il nostro percorso. Quali sono i cinque anni che abbiamo alle spalle? Quante volte siamo stati presi in giro? Ecco, il mio timore in questo momento, che può essere un momento di svolta, è quello che ancora una volta non si abbia il coraggio di assicurare alla giustizia i responsabili di una morte così atroce, così assurda, anche se si sta parlando della morte di un cittadino qualsiasi, anzi di un cosiddetto ultimo. Il mio timore è anche quello che si possa in qualche modo volere con queste nuove indagini, come dire, difendere il lavoro dei magistrati, perché io credo che con queste sentenze il fallimento della procura di Roma, ma dirò di più, il fallimento della giustizia, è sotto gli occhi di tutti. E noi per cinque anni non abbiamo fatto altro che ripetere che si stava andando nella direzione sbagliata. Io ho criticato duramente l'operato di quei pubblici ministeri e non è che io mi divertissi a farlo, perché il mio sogno più grande sarebbe stato quello di avere al mio fianco dei magistrati che lottavano assieme alla mia famiglia. Ora, un'altra volta, come anche in primo grado, forse in maniera ancora più forte, mi viene detto che forse sono stati carabinieri. E quindi ora cosa si farà? Mi pongo una domanda, per esempio, sono passati cinque anni, cinque anni, e nessuna indagine in quella direzione è stata fatta allora. Ma non perché io dica che siano stati gli uni o gli altri. Se lo dovevo sapere io, forse a questo punto avevamo già qualcosa in mano, avevamo già un risultato. Però non è così, io non lo so. Però mi chiedo perché non sono state fatte fin da subito, dai primi istanti delle indagini a 360 gradi, anche per poter eventualmente scartare quelle ipotesi che si ritenevano assurde. Eppure tutto questo non è avvenuto. E ancora una volta le dico, sbagliavo quando criticavo l'operato della Procura di Roma? Lo spesso è che ora, se davvero si riapriranno le indagini, Ilaria, 67 pagine. Si agirà con maggiore attenzione. Le leggo, ma lei lo conosce certamente bene, lo faccio a beneficio dei nostri spettatori. Il passaggio però ha delle motivazioni della sentenza che parla di questo punto, cioè dei carabinieri. Non può essere, scrivono i giudici, definita una stratta congettura l'ipotesi prospettata in primo grado, secondo cui l'azione violenta sarebbe stata commessa dai carabinieri che l'hanno avuto in custodia nella fase successiva alla perquisizione domiciliare. È un'affermazione forte in assenza di indagini in quella direzione. Vogliamo ripercorrerla per un attimo quella notte? Io vorrei solo dire una cosa, ma che giustizia è questa che fa grandi inchieste di mafia, mafia capitale, che poi non riesce a risolvere le morti che riguardano i tribunali di cittadini, ma che poi sono la maggior parte? Perché quando si ammazza un cittadino all'interno dello Stato non si riesce a trovare il bando della madassa, a differenza delle altre morti all'esterno delle stesse strutture che hanno poi una svolta? Possibile che sia tanto difficile trovare i colpevoli a fronte di risultanze chiare come dimostrato dalle foto dell'autopsia di Stefano? C'è evidentemente un sistema autoprotettivo che riguarda medici, polizia penitenziaria, carabinieri e anche magistrati che difendono se stessi e il corpo a cui appartengono, piuttosto che cercare la verità. Io me la spiego così. Questa è la spiegazione che lei si dà. Ma ripercorriamo però insieme quella notte perché può aiutare a fare chiarezza. Quella sera Stefano rientrò in casa, in casa vostra, per cenare insieme a voi. Come si svolse la serata e in che condizioni era Stefano? Ma Stefano era in condizioni normalissime. Aveva lavorato durante il giorno, come al solito, era andato a Frascati a ritirare un certificato comunistico molto importante per me, me l'aveva portato, tutto trionfante, altre piccole inconvenienze gli avevo dato. E poi verso le 9, è venuto, 9, 9 e mezza, ha cenato perché ovviamente prima è andato in palestra, poi ha portato un pochino in giro il cane sotto casa, poi è venuto su e ha mangiato con me, ha passato una bistecca, eccetera, eccetera. E poi se n'è andato via, ha parlato con la mamma, tutta contenta che lui stava bene. Tra l'altro con una frase che penso che sia risuonata in testa per molto tempo, rivolta alla mamma prima di uscire. Ah certo, dice mamma mi vedi bene adesso, mi vedi bene. E mia moglie che ha un certo, come tutte le mamme, ha un sesto senso, qualora ci fossero delle anomalie nella voce del proprio figlio, ha senz'altro annuito, è contenta anche lei. Nonostante ciò, voglio ribadire che Stefano, a parte questa descrizione, stava benissimo, stava in forma. Questo è un punto importante poi nell'analisi del resto della nottata. Nel cuore della notte lei viene svegliato perché ci sono alla porta i carabinieri con Stefano per la perquisizione domiciliare. Certo, certo, certo. Ancora le chiedo in che condizioni era Stefano in quel momento, quando nel pieno della notte si è presentato con i carabinieri a casa. Le stesse, le stesse, camminava bene, si muoveva bene, il viso era perfetto, assolutamente, assolutamente, stava benissimo. Sia io che mia moglie abbiamo notato le stesse identiche cose. E 12 ore dopo, quando lo ha rivisto invece, a Piazzale Clodio? C'aveva il volto gonfio con un pallone, gonfio con un pallone. L'ho detto al giudice, l'ho sempre ripetuto, e poi dei segni neri netti sotto gli occhi. Questo potrebbe però essere anche il risultato di una notte certamente non semplice. Ritengo di no, ritengo di no perché non erano semplici occhiaie. Perché infatti in questo caso le testimonianze sono discordanti. Certi carabinieri parlano di ecchimosi, altri parlano di segni sotto gli occhi. Ma in realtà questi erano segni netti, nettissimi. Stefano aveva, siccome lui faceva le lampade, a volte, come si vede dalle foto, c'era delle piccole eritemi, ma leggerissime, dovute alle lampade che lui faceva poi. Ma a questo non c'entra nulla con i segni invece vistosi che io ho visto. Cioè un cazzotto che ricevi in un occhio ti procura quel tipo di lesione. E poi aveva la faccia gonfia con un pallone, tenendo conto che Stefano era longilineo, era magro. Quindi a me mi ha fatto molta impressione questo fatto. Solo sette ore dopo l'udienza, e quindi comunque passa altro tempo in cui non è più con i carabinieri, per la verità, sette ore dopo al Fatebene Fratelli viene diagnosticata invece una duplice frattura. Frattura, certo, certamente. Infatti alcune testimonianze durante l'udienza dicono che Stefano si siedeva male su un fianco, su un gluteo solo, e quindi questo ha dato adito al fatto che fosse stato pestato prima. Altre testimonianze sono esagerate, perché altre che emergono qui dalla sentenza, riportavano che Stefano invece stava bene, e che addirittura ha dato un calcio forte ad uno sgabbello, ad una sedia, forse è derivata dalla frattura. Niente di più falso. C'ero io, e posso dire che lui ha dato una leggera buttarella di stizza su uno sgabbello. Niente di più. Per cui, diciamo, ecco, adesso il noccio della questione è questo. Con la duplice frattura vertebrale e come è stata causata, se prima dell'udienza o dopo l'udienza. Comunque, adesso, a parte, voglio dire, questi dettagli, che non sono dettagli, sono importantissimi, però voglio dire, a parte questa dinamica, è chiaro che Stefano ha subito delle lesioni, è indubitabile. Come mai, ecco, questo è il quesito vero, come mai non sono state svolte delle indagini veramente serie, approfondite, in concomitanza dei mezzi tecnologici di cui dispone oggi la magistratura e le forze dell'ordine, come mai non sono stati fatti? Un'altra cosa importante, quando è stata sequestrata la droga a casa, cioè abbiamo portato noi la droga che abbiamo trovato a casa di Stefano, io mi aspettavo, sinceramente, che a seguito di questo fossero state svolte delle indagini per capire la provenienza e quindi di capire qualcosa in più di tutta questa vicenda che forse avrebbe dato una luce diversa alla situazione. Niente di tutto questo. Come vede ci sono delle cose carenti, ma di una gravità sconvolgente, che se fossero state fatte non saremmo arrivati a questa conclusione così brutta a fronte, ripeto, di una situazione così eclatante come quella di Stefano. Non è possibile. Abbiamo cercato di percorrere quella notte. C'è un altro aspetto del quale forse si è parlato sempre molto poco, sul quale lei può darci semplicemente un'interpretazione perché non era presente in prima persona, come nelle altre circostanze di cui le ho chiesto. Ed è la telefonata fatta al 118 dalla caserma dei Carabinieri in cui Stefano ha trascorso la prima notte dopo l'arresto, una telefonata fatta da un militare dell'arma perché Stefano si lamentava per il dolore, all'arrivo poi dei sanitari Stefano non volle farsi, almeno questo è quello che viene riportato, non volle farsi visitare. Che tipo di interpretazione dà a questo episodio? Guardi, io dico una cosa, se ci fosse stato un rifletto a voce alta, se ci fosse stato un pestaggio antecedentemente alla chiamata del 118, innanzitutto il militare di turno avrebbe dovuto subito segnalarlo se non altro per togliersi determinate responsabilità. E poi c'è un fatto, è stato Stefano che ha sollecitato la chiamata del 118, è stato Stefano che si è lamentato perché aveva freddo, perché era disagiato, per paura, non so. Quindi voglio dire, anche su questo bisogna riflettere perché altrimenti come facciamo a dire, ad affermare con certezza che sono stati i Carabinieri prima di questa, cioè in poche parole all'atto del suo interrogatorio alla Caserva Appia, e questo è quello a cui mira forse l'attuale tendenza del giudice. C'erano segnali nel quadro clinico di Stefano che possono giustificare un malore, un problema fisico indipendente da eventi esterni. Stefano soffriva di epilessia, ma soffriva, ormai l'epilessia lui l'aveva risolta perché le cure, i controlli eccetera, lui diciamo probabilmente aveva solo paura, solo paura perché in realtà gli erano state tolte le medicine, il salva vita che lui portava, il ripotril e forse la richiesta di aiuto, secondo me, adesso sto riflettendo ad alta voce, era rivolta solo a questo, perché se ci fosse stato un vero pestaggio antecedente sarebbe perso in qualche modo, è vero che qui entra il discorso invece inverso del sistema autoprotettivo che a volte purtroppo constatiamo nell'ambito delle forze dell'ordine, dei medici stessi, anche dei magistrati, cioè è un sistema che ci si autoprotegge, ma appunto per questo questi fatti dovevano condurre a un'analisi rigorosissima e approfondita con i mezzi scientifici attuali. Da quello che sta dicendo lei, da questa lettura amara della situazione e l'abbiamo sentito anche dire da sua figlia, mi sembra di capire che c'è poca speranza, poca serenità nell'attesa dei nuovi sviluppi che potrebbero arrivare da oggi. Sì, perché vede anch'io, oggi parlavamo appunto col Vice Ministro e lui sosteneva che dovevamo ancora avere pubblico fiducia nella giustizia, ma noi se siamo qua vuol dire che ce l'abbiamo, ci sentiamo, speriamo e ci auguriamo veramente, però certo i segnali non sono assolutamente positivi, anche perché dopo cinque anni, con i trasferimenti in corso nelle sedi delle forze dell'ordine, con determinati indagini che all'epoca potevano fruttare dei risultati, oggi no. Mi sembra veramente improbo sviluppare un'indagine che abbia un discorso di serietà, mi sembra veramente difficile che si possa, a meno che, e questo è un discorso auspicabile che purtroppo trova poco riscontro, ci sia un qualcuno che alza la testa e comincia a dire la verità, è quello che diceva a suo tempo il Presidente Grasso, che ci auguriamo che qualcuno parli, ma lei capisce bene che questa è una richiesta che comporta molti problemi e difficoltà, però io su questo spero, sinceramente, su questo spero che qualcuno veramente, alla luce di tutto quello che sta succedendo, alla luce di questa vicenda bruttissima, delle conseguenze che ha avuto, perché in fondo, perché dire che lo Stato non sbaglia mai? Ma sbagliamo noi cittadini, qui non si tratta di mettere in croce nessuno, ma si tratta anche di riconoscere gli errori, perché gli errori si possono fare, non siamo tutti perfetti, allora perché le istituzioni non debbono dare l'esempio a dire che si sono sbagliati in questo caso, che c'è qualcosa che non è andato? Questo potrebbe tra l'altro favorire anche la ricerca della verità. Cosa è cambiato dal primo incontro con Pignatone a le parole che invece stai dicendo oggi? Perché subito dopo l'incontro con il nuovo Capo della Procura della Repubblica avevate espresso parole di speranza per un'analisi che potesse andare oltre le eventuali responsabilità all'interno di quell'ufficio. Oggi sento parole invece un po' si disilluse. Ma sì, perché innanzitutto all'epoca abbiamo, come dire, constatato una certa tensione da parte dello Stato, degli organismi politici, il che ci ha fatto ben sperare finalmente un discorso di attenzione su questo fatto. D'altra parte però la sentenza dice che esclude ulteriori indagini sui vecchi imputati. Quindi chiude tutto un discorso completo. Si parla di assoluzione e basta. A questo punto sviluppare, è pur vero che nell'ambito del processo sono passati centinaia di testi, testimoni, anche loro, come dire, facenti parte degli organismi statali in cui è incappato Stefano. Quindi potrebbe anche darsi che sviluppando, voglio dire, ulteriori testimonianze e indagini su questi singoli testi, possa uscire fuori qualcosa di nuovo. Però il tempo, in questo caso, non gioca a nostro favore. Io poi vorrei dire una cosa importante, vorrei dire una cosa molto importante che ho sempre detto e mi rammarico vivamente di questo fatto. I periti del Tribunale che hanno fatto? Hanno capovolto la realtà. La dottoressa Castanio, nonstante il cardiologo del Tribunale, avesse asserito che il cuore di Stefano si è affermato per il dolore, ha affermato invece, alla fine, le conclusioni che è morto di inanizione. Ma allora da che è derivato il dolore? Se non dalle botte. Ma di che stiamo a parlare? In questo caso lo Stato ci fa una pessima figura. Perché non trovare, voglio dire, permettere a certi periti, che per me hanno compiuto delle azioni gravissime di capovolgere la realtà, è un atto veramente che non sta nel certo tempo per terra. Tra l'altro anche i giudici stessi, nel momento in cui emergono delle situazioni discordanti, anche loro, a mio avviso, debbono saper leggere nelle perizie stesse. Non si può affermare determinate cose e poi a conclusione dirne una completamente diverso. Cioè dire che Stefano è morto di fame e disera in quattro giorni, che è un'affermazione che non sta nel cielo e nel terra. Che tipo di prosecuzione del leader giudiziario immaginate con i vostri legali ora dopo aver letto le motivazioni della sentenza? Guardi, la cosa auspicabile sarebbe, è difficile però da ottenere, sarebbe l'annullamento del processo. Tramite Cassazione questo? Esatto, la richiesta alla Cassazione dell'annullamento del processo. Anche perché, se andiamo bene a vedere, ci sono troppe cose contraddittorie, troppe che potrebbero anche dar adito a un annullamento completo, perché come dire, le testimonianze sono discordanti, le perizie sono discordanti, cioè tutto non collima perfettamente, per cui c'è qualcosa di sbagliato dall'inizio. Questo potrebbe essere un motivo auspicabile. Capisco che, e mi dicono anche che è molto difficile ottenere una cosa del genere, ma questo secondo me sarebbe l'unico metodo, non secondo me, per carità, questo sarebbe l'unico metodo per poter tentare di risolvere la situazione, di riesumare tutto nella giusta luce, le perizie, le testimonianze, di rimettere tutti insieme nel calderone, ex imputati e nonne, e vederli tutti finalmente in una luce accettabile. E lei ritiene che ci siano i vostri legali e che non ci siano gli elementi? Questo non lo so, non lo so perché lei capisce bene che la sentenza è uscita ieri, se la stanno studiando, se la stanno elaborando, per cui mi auguro che io personalmente, io sa, ho vissuto il processo per 5 anni, per cui di riflesso ho imparato determinate cose, ma è chiaro che la giurisprudenza presuppone altra preparazione, per cui ovviamente speriamo che trovino l'appiglio giusto. L'ultima domanda voglio farle però sulla solidarietà di tanti cittadini, di società civile, di tante persone che era stata molto forte già prima, ma che dopo questa sentenza d'appello si è ulteriormente amplificata. Eccezionale, siamo commossi, è questo il dato positivo che ci fa sollevare, se vogliamo, da questo nostro stato così depressivo, perché dopo 5 anni di schiaffi che prendiamo, questa è l'unica nota positiva, l'unica nota positiva che tra l'altro però, proprio in concomitanza dei risultati dell'ultima sentenza, qualche mese fa, ha prodotto un certo poimento nell'ambito del strutturo dello Stato, ci ha ricevuto il Presidente Grasso, anche lo stesso Renzi si è dimostrato sensibile a questa situazione, per cui io dico questo, non dico che la politica deve interferire nell'ambito di ogni struttura che giustamente deve avere la sua indipendenza, ma la politica deve dare un indirizzo, se c'è una carenza strutturale la politica deve dare un indirizzo, ricordiamoci che il processo Aldrovandi ha avuto un esso positivo proprio in virtù di questo, perché è stato sostituito il PM, perché il nuovo sottosegretario alla giustizia, il Professor Manconi, ha preteso che si facesse giustizia, non interferendo ovviamente, ma dando un segnale, secondo me questo la politica deve fare in questo caso, e speriamo che lo faccia. Grazie, grazie a Giovanni Cucchi, noi chiaramente continueremo a seguire l'intera vicenda dal punto di vista giudiziario, perché un po' come tutti, senza chiaramente puntare l'indice contro nessuna delle parti che sono state chiamate in causa dall'inizio della vicenda ad oggi, però il fatto che una morte del genere resti per la giustizia, ma anche per la semplice cronaca senza alcun responsabile è francamente inaccettabile, come poi le massime istituzioni hanno anche testimoniato a voi nell'immediatezza della sentenza di secondo grado. Grazie Giovanni. Grazie a voi. Cucchi, noi ci fermiamo, pausa pubblicitaria, poi torniamo con la pagina sportiva.